Ciao a tutti ragazzi, buon martedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di AveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo oggi da Warner Bros. La casa ha infatti finalmente annunciato la data d'uscita di Batman Arkham Knight. Arriverà il 2 giugno 2015 su PC, Playstation 4 ed Xbox One, naturalmente come sapete sviluppato dai talentuosissimi ragazzi inglesi di Rocksteady. Non contenta, Warner ha anche annunciato due edizioni speciali del gioco. La prima si chiama semplicemente Limited e contiene l'artbook, uno steelbook e un fumetto realizzato da DC Comics, un pacchetto di skin da utilizzare nel gioco ed un action figure di Batman stesso. La seconda invece ribattezzata Batmobile Edition contiene tutto quello che abbiamo detto finora, ma al posto dell'action figure di Batman c'è una riproduzione, tra l'altro apparentemente molto bella, della stessa Batmobile che abbiamo già potuto vedere nei gameplay finora rilasciati. La software house ungherese Neo Core Games ha recentemente rilasciato su Facebook un'immagine che sembrerebbe suggerire l'arrivo di The Incredible Adventures of Van Helsing su Xbox One. Del resto la casa si era sempre detta interessata a portare il gioco su console next-gen, Xbox sembra essere quella selezionata per questo porting e ora rimane da vedere se il lavoro comprenderà soltanto l'ultimo gioco della trilogia, lo ricordiamo in uscita entro fine anno, oppure anche gli altri due che sono stati rilasciati precedentemente. Sulla pagina LinkedIn di un ex membro di Next Level Games è stato recentemente pubblicato un concept art che mostra Samu Saran, la protagonista di Metroid, in una veste decisamente più moderna rispetto a quella a cui siamo abituati. Questa misteriosa immagine naturalmente ha destato moltissima curiosità a rivelare qualcosa è stato il portale americano Destructoid. Da una fonte anonima pare infatti che la stessa casa che ha sviluppato Luigi Mansion 2 fosse effettivamente al lavoro di un nuovo episodio di Metroid per 3DS, ma sembra anche che i lavori siano stati interrotti dalla stessa Nintendo per motivi ancora ignoti. Da adesso la casa di Kyoto ha detto più volte di non voler abbandonare il brand e quindi magari avremo degli sviluppi in futuro. Metal Gear Solid V The Phantom Pain è sicuramente uno dei titoli più attesi della prossima annata e lo sa bene anche Hideo Kojima che ha confermato insieme al suo team la presenza al Tokyo Game Show, ha detto che ci sarà in tutte le giornate e ha affermato anche di avere in serbo qualche sorpresa per tutti coloro che parteciperanno alla fiera. Dal canto nostro speriamo che una di queste sorprese sia proprio la data d'uscita che è ancora fissata ad un generico 2015. Nel maggio dello scorso anno Remedy Entertainment durante l'evento di presentazione di Xbox One annunciava Quantum Break, un action shooter in terza persona con meccaniche di modifica del tempo. Moltissimi fan di questa casa tuttavia avrebbero voluto vedere l'annuncio di un eventuale Alan Wake 2, ossia seguito di quel survival horror molto narrativo che alla fine era riuscito ad ottenere un discreto successo anche di vendite nonostante le critiche iniziali che gli erano state mosse. Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ci ha tenuto ad esprimersi in merito dicendo che semmai ci sarà un seguito vero e proprio per le avventure di Alan Wake potrà essere sviluppato solo ed esclusivamente da Remedy Entertainment. Nessun altro può mettere le mani su quella proprietà intellettuale ma attualmente chiaramente la casa, che peraltro è anche piuttosto piccola a livello di numero di dipendenti, è completamente impegnata su Quantum Break e quindi al massimo potremo aspettarci qualcosa una volta completati i lavori su questo nuovo shooter. E rimanendo sempre in tema Microsoft, la casa di Redmond ha confermato che il Gold Weekend che è stato recentemente dedicato a Forza Motorsport, verrà replicato anche per altri titoli. In buona sostanza si tratta della possibilità di scaricare gratuitamente un gioco per un intero weekend, mantenere i propri progressi poi successivamente nel caso si decida di acquistarlo. Si tratta decisamente di una buona iniziativa che continua a dare valore all'offerta commerciale Microsoft. E come di consueto passiamo adesso alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana va allo sviluppatore italiano Ovo Sonico che ha finalmente annunciato la data di uscita di Murasaki Baby. Il gioco arriverà esclusivamente su PlayStation Vita ed esclusivamente in formato digitale il 17 settembre, quindi non manca molto. Ricordiamo che si tratta di un originalissimo gioco a scorrimento orizzontale che richiede la soluzione di enigmi ambientali con l'utilizzo dei due touchpad della console. E il flop di questa settimana va a Topware Interactive e Reality Pump che hanno annunciato un ulteriore ritardo per Raven's Cry. Questo action game piratesco avrebbe dovuto uscire nel maggio 2014, è stato poi spostato ad ottobre 2014 e la data attuale è 14 gennaio 2015. Speriamo davvero che sia l'ultimo rinvio per questo prodotto che peraltro ci incuriosisce non poco. E con questo anche per questa edizione di Every Eye News era tutto. Noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo venerdì. Ciao!